Nella sala operativa unificata della protezione civile a Firenze si è fatta la conta dei danni della nuova ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. Al centro della riunione a cui hanno partecipato il presidente della regione Enrico Rossi e l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni, che si sono collegati in diretta con le sale attivate su tutto il territorio regionale. 60 le frane sulle strade comunali e provinciali della Toscana e 10 gli allagamenti più gravi. Nel Pistoiese il torrente Acqualunga ad Agliana, affluente dell'Ombrone, ha rotto un argine allagando case e fabbriche. Arno in piena ha monitorato per tutto il suo tratto fino a Pisa, sorvegliate anche l'Ombrone, nel Grossetano e il Serchio. Rossi ha poi fatto il punto sulla frana della Cassia tra Abbadia San Salvatore e Radicofani. Il fiume Paglia doveva essere risistemato da un consorzio del Lazio che noi chiediamo passi a noi la competenza della manutenzione ai consorzi della Toscana, la competenza della manutenzione di quel territorio. Il Paglia ha mangiato il terreno sotto la statale e quindi la statale è franata. C'è una ditta che sta lavorando, a questa ditta abbiamo chiesto anche di provvedere a dare un'occhiata e a intervenire per quel che può sulle due strade provinciali alternative. A creare molti problemi soprattutto sulla costa è stato poi il forte vento che ha soffiato con rafiche fino a 100 km orari in Maremma. Sono in corso mareggiate, i collegamenti con le isole non ci sono, le mareggiate dureranno anche fino a domani e dalla costa ci aspettiamo di avere il conto di quanti danni ha fatto il vento perché ha colpito soprattutto sulla zona della costa. Il Presidente ha poi spiegato, dopo la dichiarazione dell'emergenza regionale, che la Regione cercherà le nuove risorse per far fronte ai nuovi danni, precisando comunque che non si tratta di un'emergenza paragonabile a quella dello scorso novembre.